Sono a serio rischio alcuni presidi di Polizia di Stato presenti sul territorio alto tesino. Nelle ultime ore il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inviato alle organizzazioni sindacali un corposo elenco relativo a un progetto di rimodulazione dei presidi di specialità, prevedendo la soppressione sul territorio nazionale di 251 posti della Polizia di Stato, di cui 5 nella sola provincia di Bolzano. L'ipotesi soppressione riguarda la sezione Polizia Postale di Bolzano, la Polizia Stradale di Merano e ancora la Polizia Ferroviaria di Fortezza San Candido e Merano. La razionalizzazione e l'ottimizzazione deve avvenire in un progetto più ampio che coinvolga tutte le forze di Polizia, ma soprattutto evitando di mandare al macero le specialità che sono il fiore all'occhiello della Polizia di Stato e il servizio ai cittadini. Faccio l'esempio postale, dove il futuro informatico dei reati informatici e pedopornografici è l'evidenza giornaliera, la ferrovia, l'ente ferrovia, l'immigrazione che ricade sulle tratte ferroviarie e i servizi autostradali come quelli del Vavenosta, Brennero, dove praticamente in questo caso vorrebbero a mancare. Un'operazione che se andasse in porto provocherebbe un drastico calo della sicurezza in provincia di Bolzano rendendo così ancora più vulnerabili i comuni. È un fatto naturale che levando la presenza del territorio di personale così altamente specializzato evidentemente la criminalità possa recepire la possibilità di ampliare le proprie risorse paradossalmente contrario a che noi le riempiamo. Mancanza di dialogo, siete pronti a qualche manifestazione? Sicuramente perché noi pensiamo che la mediazione e la concertazione sia l'elemento naturale per risolvere le problematiche. Se queste vengono a mancare gli strumenti sono i soliti, ma questa volta è sicuramente più incisivi e siamo intenzionati ad alzare la soglia ma non soltanto per un fatto di categoria ma soprattutto per salvaguardare le condizioni di sicurezza del cittadino.